Inizia la carriera di cantante dopo aver firmato un contratto con la Sam Martin Record, e pubblica i dischi usando il solo cognome. Dopo aver partecipato negli anni Sessanta a Sette Voci e a Partitissima e nel 1967 al Festival di Zurigo con sé Ognuno di Noi, scritta da Gipo Farassino, cambia etichetta passando alla style e nel 1970 partecipa a Canzonissima con Primi Giorni di Settembre, canzone inserita anche nella colonna sonora del film I Due Maghi del Pallone di Mariano Laurenti, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, film in cui Lionello recita nella parte dell'attaccante Tonino. Nel 1971 partecipa a un disco per l'estate con il brano Quinta Stagione. L'anno successivo incide Ajace, scritta per lui da Roberto Vecchioni. Ha partecipato al Festival di Sanremo 1973 con Straniera Straniera che si classificò al quindicesimo posto, passato alla Ariston Records, incisa altri dischi con il nome completo. Muore nel 1988. Due sono i misteri che circondano la figura di Franco Lionello. L'allontanamento dalle scene dello spettacolo e cosa abbia fatto dal 1976 al 1988. L'allontanamento dalle scene dello spettacolo e cosa abbia fatto dal 1976 al 1988. L'allontanamento dalle scene dello spettacolo e cosa abbia fatto dal 1976 al 1988.